Esatto, il 20 gennaio noi della palestra Cesam saremmo protagonisti di questo memorial qui al palazzetto d'Avellino. Questa gara parte come un memorial per un nostro amico scomparso Nicola D'Amelio circa due anni fa e grazie ai vari iscritti che ogni anno ci accompagnano in questo giorno di memoria è diventata una gara a livello nazionale. Tu parteciperai come gara deca o anche come ballerino? Guarda, innanzitutto proverò a prendermi questo titolo nazionale se sto qui ad Avellino e poi mi esibirò con mia sorella in questo spettacolo che stiamo facendo. Il memorial D'Amelio non è l'unico appuntamento di questo gennaio 2019 perché poi ti aspetta anche altre gare molto importanti. Sì esatto, dopo il 20 gennaio, dopo circa dieci giorni, saremmo impegnati a Campobasso in un altro campionato nazionale e questo campionato nazionale che faremo a Campobasso ci porterà poi come punteggio al mondiale che faremo a Bratislava a giugno, fine giugno. Tu sei detenitore dell'oro, dell'ultimo mondiale della tua federazione, quante possibilità hai di poter riconfermare il primato e soprattutto come ti senti dopo esserti laureato campione del mondo pochi mesi fa? Beh, l'emozione è sempre tanta perché appunto ogni volta che entro nella mia stanzetta a vedere questa medaglia insomma, in primo piano, che sta lì, che mi guarda, è sempre un'emozione abbastanza forte. Come mi sento? Mi sento bene dopo le vacanze estive, insomma, dove siamo un pochettino riposati con gli annelamenti. Ripendiamo subito alla grande e proveremo a riportarlo di nuovo qua in Irpina il titolo. Ripendiamo subito alla grande e proveremo a riportarlo di nuovo qua in Irpina il titolo.